Quanto è che manca? Ah, bisogna vedere il metanolo se basta o no? Sto andando piano, sì, mi diverto a fare questa, manetta. Questa mi diverto un casino. Ahahahah! Ahahahah! Un po' non c'è un motore caldo adesso. Un po' non c'è un motore caldo adesso. Un po' non c'è un motore caldo. 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 no 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 no